ciao sagittario bentornato oggi è sabato 26 ottobre 2024 e ho delle previsioni speciali solo per te qual è il tuo numero oggi guarda fino alla fine del video per scoprirlo oroscopo sagittario contentoni col se stile luna giove cuor contento lo siete sempre nati sotto il segno più allegrone e ottimista dello zodiaco firmato dal grande giove generoso anche all'opposizione aggiungeteci anche la presenza della bella venere nel segno amica della luna in leone perfetto per un viaggetto fuori stagione un cinema uno spettacolo teatrale una riunione tra ex compagni dell'università tra una pietanza e l'altra vi racconterete le vite il lavoro l'amore i figli rimembrando i vecchi docenti e chissà se sono ancora al mondo le figuracce gli amori di allora duro il lavoro con imprevisti fino all'uscita il solito effetto sorpresa di urano reso surriscaldato dal sestile di marte ma quando si è determinati a godersi la serata tagliando fuori tutti i guai miracolosamente ci si riesce volere potere un amore complesso e complicato ingenuo fatale l'amore può essere non ricambiato e corrisposto la coppia presto sarà in crisi e potrebbe essere attraversata da litigi e malintesi anche di notevoli consistenza i single avranno difficoltà a maturare nuovi amori o incontreranno persone di dubbio valore e qualità il partner vi trascura troppo e voi continuate a lamentarvi forse è giunta l'ora di metterlo di fronte ad una scelta una persona vi affascinerà particolarmente oggi segretamente il vostro cuore accarezza l'idea di una storia d'amore ma poi tutto vi frena il cuore vi dice una cosa e la mente un'altra badate bene con chi vi confidate soprattutto oggi sarà meglio evitare di farlo soprattutto se non avete una profonda e indistruttibile fiducia nei vostri confidenti nessuno sa meglio di voi quello che sarebbe meglio tuttavia a volte bisogba accontentarsi di quello che si ottiene quindi usate il buon senso e la ragionevolezza non andate d'accordo ma volete ugualmente salvare il rapporto cercate di venirvi incontro state avvertendo qualche difficoltà soprattutto economica alcuni pianeti purtroppo per adesso non vi sono favorevoli e dovrete attendere un po prima di ristabilirvi da certe situazioni nuove conoscenze contatti con sportivi attività di gruppo potrai trarre vantaggi da riunioni raduni conferenze cene feste quante volte avete desiderato un momento di pace da dedicare a voi stessi in assoluto relax or bene oggi potrebbe essere il giorno adatto per rilassarvi e lasciare fuori la porta alcuni problemi pronti a partire a tutto sprint domani freschi e riposati una persona che nemmeno immaginate vi sta pensando e nel modo giusto perché non cercate di dargli qualche occasione magari ricucire non vi farebbe del tutto male si apre una giornata ancora molto positiva venere e luna si alleano per fornirvi aiuti da più parti senza dimenticare la compagnia di persone con cui non vi annoiereste mai non mancherà quel pizzico di vivacità spiritosa che non contrasta con il vostro carattere lievemente moraleggiante se decidete di programmare una gita fuori porta o un'escursione in un posto da visitare nei giorni prossimi siete stati lungimiranti questa per voi è una giornata ottimale si raccomanda moderazione nelle prelibatezze gastronomiche mercurio fuori uso in dodicesima casa abbattuto dal fulmine di urano che gli si oppone oggi vi rende inefficienti sul lavoro e distratte a scuola sprovveduti anche in ambito finanziario dove con il rosso marte nella casa numero 8 quella che parla di risparmi e investimenti rischiate colpi di testa che non risolveranno un eventuale ammanco e non tamponeranno una spesa eccessiva casomai vi manderanno ancora più in uno stato di profondo rosso modello d'ario argento o quasi felici solo nei sentimenti e negli ideali che difendete a spada tratta il partner impersonato da giove all'opposizione vi adora e vi gira attorno come una falena tratta dall'ampione ottimi rapporti anche col socio e l'interlocutore in affari sarete imprudenti e irragionevoli ma tanto troppo simpatici amore ed eros l'amore con voi e vi sorride allo specchio nel volto di qualcuno che amate e ricambia con identica passione sesso è sentimento felicemente a braccetto sensibili alle stesse corde animati dagli stessi ideali attratti dagli stessi paesaggi dove anche d'inverno splende il sole qualcuno in famiglia vi accusa di parlare troppo poco ma se la coppia è affiatata non serve comunicate telepaticamente con sguardi gesti e l'espressione del volto e l'altro vi capisce al volo siete più amabili del solito con una bella luna positiva nell'amico segno del leone e chi vi è accanto se ne accorge non manca l'apporto di una formidabile passione che una fortunata venere nel vostro segno vi provoca specie se siete nati nella seconda decade le nuove storie oggi vivono un momento di particolare sintonia arricchendosi di contenuti sentimentali profondi sommati a una volontà di far durare le relazioni lavoro e denaro affari golosi da cogliere immediatamente qualsiasi iniziativa proposta o dritta che riguardi il lavoro non vi dà il tempo di riflettere afferratela e basta se cominciate a tormentarvi con dubbi filosofici si salve chi può alla grande studi viaggi incontri tutto ciò che allarga la coscienza ma ahimè in contemporanea riduce il portafoglio a uno zero assoluto conti penosamente in rosso con la matematica finanziaria proprio non ci sapete fare il dio della razionalità mercurio si trova in un aspetto molto positivo ora per voi specie se siete nati in dicembre e i rapporti con colleghi di lavoro sono gratificati dalla collaborazione e dallo scambio intelligente di posizioni e punti di vista diversi sul modo di procedere e di agire benessere un filo di tosse stanchezza nervosismo stanotte dormite male scalciando nel letto eppure non ne avete motivo la vostra vita è piena e appagante sarà l'effetto del gel a conseguenza dei vostri numerosissimi viaggi oppure quell'insofferenza che vi coglie se in settimana non avete preso almeno un aereo o un paio di treni guai a fermare la trottola ricade su un fianco per lei che piacere rivedere l'amica con la quale avete studiato all'estero rientrata anche lei alla base con sorpresa un fascinoso marito che tiene banco per tutta la serata peccato non abbia un fratello gemello per lui quando c'è gente in casa il vostro snopi vi fa disperare per attrarre l'attenzione fa il giullare corre tutto attorno abbaia fa i dispetti addenta tutto ciò che trova in giro gli altri ridono ma sotto sotto vorrebbero spellarlo vivo colore delle emozioni giallo zafferano barometro dell'umore soleggiato pagellina del giorno sentimenti 10 attività 10 finanze 9 benessere 9 grazie per aver guardato il video buona giornata